... Sì! Non potremmo guardare come il sacccio. Come un sacciccio? Sacco... Hai sbagliato l'angelo, lo sapevo. Eh! Lo sapevo, sarei giurato, guarda. Stiamo via. c'è stato un video dovevi fargli un baxter tu non ti ricordi ma un po' di episodi fa mi hai detto andando per la strada dell'adoratore del cimitero e questa porta non sono riuscito mai ad aprirla e neanch'io ma molti non sono riusciti da qui ah sì io non ho mai visto una persona che dava aperta ma che saranno queste ma ci sei mai perché ho visto due volte questa strada ma eccole però perché io moro no molti danni molto onore a ricordare esplode non è male che è meglio male anche questa cosa non sono riuscito a aprirla il baule mai quello mai già è il porto assurato non si sa bene non si sa bene ogni volta che fa il ballerino casca come un idiota cazzo adesso la telecamera si ha fatto un po o le pizzi capisci molto ammannato la magia ma io non capisco la fa mannare che adesso la può mannare amo farfallerì eccolo 345 detto anche i cleri mi vedi stupidicolo in stare a test come sarmo stati in tappesino l'odio capisco mai un bel pezzo del gioco ma tutto tutto dall'inizio questo è però non pensava reale si può prendere era un mocio pileta cos'è quello ricordi l'inizio quello è il salone quello dell'inizio e non ho capito un fattivo a niente un po' di capire qua non mi darei a più porti le buone le dalle giocatori buoni inizia su una ruota così anche cose che si muove un attimo pensato così un nuovo mai potrò nemici questo diranno questo quello con l'occhio se li verano mai tutto il vento mi era necessario se li avrebbero fatta da soli non so soldati solo di igual non credo che ha matato tutti questi demoni da solo c'è non c'è la mia parte di fiori ma c'è 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 una heresia che non può mai essere scolta e questo è definendo il vero Dio questo il vero è eterno e ci avvicino e ci avvicino i nostri bambini e i loro bambini ci saranno ci saranno e non c'è ci saranno ci saranno ci saranno ci saranno ci saranno ci saranno un uomo ha matato un uomo non ci saranno non non ci saranno non in ci saranno ci saranno änger le venda in i Non capisco se ora sali o scendere. Salve. Beri non ne cresce in fretta. Ho sentito lui dire le sue prime parole e ha già cominciato a camminare. Vedi? La vista sul monte. Fatti. Magari succede che fai? Non ancora. Fatti in strada con forza fino alla cittadella. Fatto. Raggiungi il planetario adesso. Quindi si riscende. Eh già. Eh già a posto le cuffie del cazzo. Un'anormalissimo. Comprimi delle cuffie. Sì. Sì. Mi ha rotto anche le mie penassone. Forza comprei la roba. Sì effettivamente. Uffia 100 euro però. Un paio del cazzo. Certo. Sì effettivamente. Questo è molto fai. Come ti sbagli? Non ne aprirai mai? No quello ti ho detto niente. Eh mamma che è rosso. Ah si. Uh c'era uno dietro. Fa un c**o Vi faccio passare anche lui Ma non si va Come no? Non ti sbaglio più Non ti sbagliare Ti ha gelato Quel fuoco mi ha gelato Oh, questa può aprire Zit Brucchiere Armonia Questo non è male Pesa anche poco Eh, però più Agilità 18 Questo è velocissimo Posso metterci delle rune Questo qui Un buono Ho trovato un grande tesoro Adesso Fa c**o Modra mano Bella st'ambientazione Alt'ombra Che sei c**o Eh, però è fatto bene Dai La luce che filtra da rosone Perché quello è un rosone Capisci? Rosone di Higgs Non so se Si conosce All'oreggia Perché st'armatura si chiama? Perché c'è dimensioni Armonia Simmetrie Molte Ah Che fa sto giunno Sanguisuga magica Eh, aspetta Se lo dicevo Stava legge Ah, assorbe gli effetti Magici Degli avversari Niente Beh Insomma Porca rocchia Ma che era? Ah, bambino Ma buono Ah, tu sei ridicolo Ti ho visto che c'è il corpo Non mi appo mai Ma poi fluttua Vedi come fluttua Beh, lontano dai Eh, questo si Eh, di queste quel ciondolo Con luce al ciondolo Che t'assorbera La salute Ma come se non c'è Che serviva quel ciondolo Gli elevavi tutta la magia E non ti poteva sorvegliate Che giocatore di ruolo Insulso Veramente Cioè Metti quel ciondolo No Non ti fa quell'incantesimo Eh, sì Perché quello Sarà magico No Che dicevi Che giocavi Che casato Dice Che gioco Scusate L'ha detto Tipo mezzurata Lo monto proprio qui Lo taglio Lo copio E lo incollo qui Che po' se la metto Ma sempre Il metro prima E poi E poi E poi E poi E poi E poi Questo si Stai ragionando Una libreria Capisci Devi attivare Perché si muove Il planetario Capisci Conchiuso Vabbè Sopra Lì vedi Che gif Vedi Ce n'è un'altra Eh E queste? Eh Ma mica qui Quella di acciacchi Vedete Ho aperto qualche porta Mazzate quale Sempre Credo Anche prima Ma questo C'è sodà Comunque C'è sodà C'è soddisfatto C'è soddisfatto Con la corsa Verso il muro Quello Negli spazi stretti Io a crisi Anche io No vabbè E' per lui Di più Ti faccio Ognuno Mi ha detto Salverà la vita Guarda Il Fatron No Non so Le anime Non mi ingratto Per qua Eh No Non è lui E' lui Sì E' lui E' lui E' lui Sì Sì E' lui Sottissimo E' lui Sì che carica da parte della macchina maria col forcone è piaciuta anche per l'attimo un po' casuale lì in bagaria è tasto no vedi quant'azzo ma quello sordice? ma quello è pastore mi fa cazzo però io seguo quella cosa secondo me vai a tu mani chi fa il danno ma quello che fa ah esplode ah esplode scopo cos'è ma stai cazzo la testa questa mattonella si muove per andare su ma dice si no non lo so aspetta so sicuro eh ah pensare che avessi lo screen che ho in questo ma rompi queste ribelline magari dentro questi tomi non scoperto 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 un visibile forse via web ho guardato tutti i reparti che senso muro quel buco dietro a te ok così è acceso prima era spento un mistero che è? eh vedete qua questo dice una vera da lì qua non ci passa? non ci passa un banco coglielo eh si entra dal muro oh Thanos è qui eh ha raffinato il pioco è proprio lui vuoi battere i talloni eh oh Thanos lo ha fatto per le pene è un fete oh 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 hello I am and I but you mean no no now I'm you once when why potrei sapere che sta succedendo beh tutto l'ha giocato io guardo sta succedendo qualcosa di strano ma chi ma voglio scoprirlo ma chi ma chi perché la raccolta è una cosa il demonitore oh si ma spadone io non voglio spadone è la meglio cosa che c'è 100.8 sembra buono al lento 15 attraverso il centro di kiston per tornare a questo punto bisogna fare del backtracking capisci ripartire tutto da dall'inizio e controllare tutte le cose che non si sono aperte no comunque prima di andare nella sala delle menzogne bella sala no c'è il palazzo oh my brother simon ha scomparso per cui lo aiuti è un monaco forse nella cantina dei vini ma non è mai piccola la cimia quattro pizzi ai cistro pizzo ok mantina dei vini intanto non so se hai visto quello scudo quale? quello tuo osservato? devi metterlo in posa la parata perché non lo fai? cosa ti ricorda? lo scudo del sole ah, ora è un putato il braccio io e ti altro favore ti chiede come va il braccio a me la mano il mio laboratorio devi scomprargli la via ah, devi scomprargli la via per il suo laboratorio questo insulsa doveri sfruttare l'agilazione quella finestra mi ha chiedi in posa con lo scudo e parlare, e speculari mi dispiace, no? sono tutti morti, giusto? no, non è una bugia una menzogna la sala delle menzogne gli dividi il contrario non è un'esensiare? questo anima è una leva nessun chiacchiere strano il tipo fissa davanti a se non so le guardie di antanas non so ne chiude per fare la bestia troppo parola la mente no xd confondiamo gli spigoli a capire c'è del punto sta ancora chiuso lo spirito dell'esperto tutta una sciocchezza una stottaggine esatto ma vuoi dov'è? vabbè ma me l'avevi servita sul piatto d'argenzo si nel senso si arriva la bestia tanto si si un'altra nebbia vedi che ti dico però? cercare l'ingresso della sala delle menzogne dietro al tempio abbandonato quindi l'attrezzata il sentiero di keystone mi credo si no quel cazzo ma per forza la best per forza? tutto questa è la blocca avanti avanti ma vuoi che se tra una porta in altra spingi 100 volte questo kit è la bonus di nuovo piazza dei giudici guardate guardate devi tirarlo su però con la parata ne lo posso proprio eccolo come lo può fare e poi quella delle camere devi capito? un r delle ricercate e li e li e li e li e li esatto ma poi puoi entra dentro il personaggio con la telecamera le camere sono cose importanti capito? non vuoi lasciarli così io e bestia sia? che fa sta bestia? un po' basta sei? o cos'è? la bestia l'argo questo è la barra della rapida eh? non è la barra della rapida cosa cosa è? ora che mi ha fatto i vedie forse per i rom mi ha detto che questo c'è un finale figlio tabaccaio oh ma fa un cazzo insomma bello tosto guarda quanta vita c'hai c'avevi uno di vita allora su cazzo fa paura quando si sloca con cui questi gli fa tanto l'aria fa 300 so se ti sei accorto se tu mettesi le pozioni io per male per caricarlo subito per ricercare come che gli fai semici come è lì che devi colpire si è più alta adesso esatto c'è un'altra strada l'anno su su no che fallo che era il galò alluminato se non è la barra della rabbia che è che si smove la barra quando si riempia inutato ma non lo dico 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 a due mani quindi c'è una magia via via questo cazzo a due no non si il prossimo boss invece è BIRMS il prossimo boss invece è BEST anche il nostro il prossimo boss un po' di fiasco 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 si un pezzi duro un pezzi duro la bestia anche la bestia cade io mi guardavo c'è una morte spettacolare visto quel pastore ciamano però promette che sbagli sono passati troppi mesi avevano mai ricordi tre morti non fa lo sborone del mezzo delle tre morti e poi fatto che c'è nello sbagliato dettaglio però tu non ricordi essere morto anche col primo boss è trovata anche la macchia ma non capire lì che fai allora ci si arriva o no lì ci sarà uno shortcut adesso andiamo ma rientri? si un po' salva no lo salva devi dirlo a tutti può fare quest secundaria e che ti salva un po' basta non so quanto adesso che forte che si gioca? eh si adesso sono i live salvaggi non abbi? dillo che l'ha visto lì a livello sei normale totale do sei? non lo so prova a confermare probabilmente la prima voce a sinistra la prima voce a sinistra no livello 42 così al prossimo 18 si facciamo la pietra pensavo agilità cominciare a tirassù quando è comparto sta roba quando è scomparso il drogo è una bestia non è vero, sta anche abbenenando salta per giù ma è tosta eh non c'è rimasto lo scuro raffa tutto, raffa tutto neanche lui quindi questa è una quest? si vabbè dovrà riparlare con quello lì con questo cavaliere che aveva paura vabbè se il cavaliere agile come era? è soltato agile è soltanto agilità beh c'è da un sacco di xp si una cosa che un po' di fa? prima eravamo ste animi depositi? depositi di xp? 3 animi 3 animi animi l per sbagliare per sbagliare stai morto o sbagliare perché? dove hai messo? la devo metterlo nel punto ah ok ho capito nell'altro punto si tu e? è pieno?